e ciao a tutti ragazzi sono sergi adrian e ben tornati sul mio canale prima di tutto siamo tornati con GTA 5 la mission numero 5 che sarà Chalop ovvero il cane appunto di Franklin e Lamar è stato un pollo non è stato un pollo non è stato un pollo non è stato un pollo questo è spirit walking esercito di corpo e soul è tutta la ragazza siamo i giovani e siamo i giovani e siamo i giovani e siamo i giovani siamo i giovani siamo i giovani siamo i giovani Grazie a tutti. Ok Ho giocato altissime volte questa missione E c'è da portare appunto Chop Il cane di Lamar Che poi vi spoiler Tanto i miei spoiler famosi Diventerà di Flanklin E si va a questo deposito Dei treni Se lo possiamo chiamare così E saliamo sul furgone Sempre ragazze prima persona Sempre e comunque Ok Di qua sono due chilometri Pazienza Ora piano piano Sto cominciando a prendere confidenza Anche con la guida Anche perchè tra Watch Dogs Watch Dogs 2 E GTA 5 La guida è E' quella ecco Sto prendendo confidenza con la guida Prima persona Anche perchè Ho lasciato il mondo della Playstation Nel 2015 L'ho ripreso quest'anno Nel 2017 E prima guidavo sempre In terza persona Maledetto tua madre Tu padre Maledetto tua madre Magari Ecco una persona un po' ambigua Ok andiamo avanti Se avessi evitato Ecco c'è la trollata Che i paddy Quelli Marroni Quelli del fili Su Watch Dogs Si possono tirare giù Anche con la moto E su GTA 5 Non tirare giù Anche con la PC Quindi ok Ok siamo arrivati E Anche mi vado ad arrivare A questo riposito appunto C'è la parte carina Oh jeez So what So the fuck what Niggas A million OGs Well shit How about put one of these Little ex pills up your ass Crack Next thing you know You gon' be That's disgusting What's happening now D-man Ain't no fun If your gangsters can't have none Man fuck you Mark I ain't sharing no ass The CGF Ain't nobody sharing nothing Man shit the hell up Fuck you nigga Man fuck y'all Hey ain't there a law Against you Mark ass Gangsters insignia Mads wearing motherfuckers Oh so what's up now Nigga you snitching Or something Oh shit Fuck you nigga I'm my bitch Fuck you nigga Come on Let's go Ok Mo' Vity Franklin Que santo si no me Tico a punto Choppe dietro Si Just try Boom Hold on Chop You seen that bitch back there She a don I'm all over that Is she probably the same Like I said They block Block your mind On this shit right here For a minute You worse than Chop Ok Il problema è che Non va ucciso So lì sarei già Saltato addosso Tranquillamente È inutile che fai Le curve strette Perché io ho Franklin E capisco dove vai Non va a So lì Non va a Suck Oh Suck Eppela Questa è Clancy No perché Una cosa che mi chiedo tutte le volte No Perché lo deve prendere Chop Cioè E' strana questa cosa però Ce lo deve prendere Chop Il cane Quando Boh Gli rubi la moto Gli puoi andare Da terapia Perché deve prendere Chop Cioè Non è mica un drago Vabbè Paragoni assurdi A parte Avevo potuto tuffarmi col cecchio Guarda che l'ha caduta spettacolare Poi non volevo rischiare Ok Rischiamo di scavalcare nel gancio Ecco Perfetto Come non ho fatto Ok Scusate Il colpo di tosse E vediamo dove Chop Ci porta Dove il senso Dove il fiuto di Chop Ci porta Ecco qua Adesso c'è da vedere se E' dentro questi due container Maledetti spoiler in arrivo Non ci sarà Perché Non possono far dover la visione così poco No Ok Teniamo con la visione di Chop Il visuale di Chop Eccco Ecco. Fantastico, adesso voglio passare a più usare di Chop. Fantastico. Ovviamente è un po' stordito. Ci ho capito che è un cane ma... Abbaia e basta. Ok, qui dovrebbe essere il primo. Sono sicuro come l'ha scelto, ragazzi. Ta-da! Oh, no. Oh, no. Oh, no. F*** tu e tu, stupido dog. Non unspegno, dite il cuore di Mario. Come andiamo. No, perché andiamo. No, tu, f*** tu. È un uomo. È un uomo. È un uomo. Mi uomo. Mi uomo. Mi uomo. Sì, è un uomo. Oh, no. So, no. C'è un uomo. C'è un uomo. C'è un uomo. Perché magari stiamo fare un'ogno. So, no. So, no. È un uomo. So, no. Allora, mettono il cane dietro con lui in macchina, in furgone, e il cane non lo morde. Non gli fa niente, sta lì calmo, ora. Giro la visuale, lo potrete vedere. Intanto c'è Stindri. Grande canzone. E lì proprio non succede nulla, però... Prima la corso, è lungo e largo. Disala in quei livelli. Che volevo evitare di fare il domino, quindi ho fatto la qualità anche se mi sono schiantato, perfetto. Ok, qui si passa tranquillamente. Ok, non l'avevo visto la... La svolta. Questa cosa, ragazzi, che Vettel è qui. Sì, ma ti può anche fermare lì, eh. Qua Vettel prende appunti. Ce l'abbiamo rincorso, l'abbiamo tra un po' ammazzato... E l'abbiamo lasciato così. Cioè, ci potete dire, mi porti a casa. Hashtag le cose che non capisco di GTA. Perfetto. Allora, siamo arrivati qui. Ragazzi, la missione è completata, è finita qui, per fortuna. Comunque, ho un po' a cuore questa missione, perché è stata la prima che ho visto, conoscito GTA, la prima volta che l'ho visto, fu su YouTube di questa missione. Quindi, è un po' particolare. Poi mi piacciono i treni, quindi... In particolar modo. Missione completata. Io, ragazzi, vi ringrazio. Lasciate un like e iscrivetevi, come al solito, che per me è molto importante. E noi ci vediamo alla prossima missione... Che, eh... Credo sarà su Watch Dogs 2. Grazie a tutti, ragazzi, e ci vediamo alla prossima.